Pronto mamma, che c'è? Sto studiando, sì sì, tesina dell'esame, rapporto uomo-macchina, tu dove sei? Ah, sì sì sì, me l'hai detto, no è che, vedi io quando studio sono molto concentrato, molto dentro allo studio e quindi ci sta che mi sia perso quella parte. No, no me lo ricordo, me lo ricordo che devo preparare la scena io, sì sì, lì lì probabilmente ti stavo ascoltando. Ehm, sì, ho già iniziato a preparare la scena, sì 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 sì, cosa faccio? Eh no, no, quello è un segreto, non te lo dico. Ehm, adesso ti lascio perché devo finire di sistemare delle cose, insomma non vuoi mica che ti rovini la sorpresa dicendoti cosa preparo e poi magari te lo brucio pure, no no no. Ehm, ci vediamo più tardi, comunque fidati, avrai la scena più buona del mondo stasera, sì potrei mangiare una cena fantastica. Ok, ciao 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 ciao. Merda. Salve a tutti amici di YouTube Il mio nome è Matteo Bini E stasera mi tocca preparare la scena Perché mia madre me l'ha imposto Ora vedete il problema è che io sono un nerd Un gamer E non ho la più pallida idea di quello che debba fare Mi servirebbe un'idea Uno spunto Un'intuizione Qualcosa da cui partire Fatemi pensare Ma certo Cooking Academy La serie culinaria ideata dalla Fugazzo Incorporation Io ho amato quei titoli Lo devo ammettere Se non erro Il primo è del 2008 Poi il secondo è del 2009 Ed il terzo del 2012 Ah già esiste anche quella specie di spin off Barra titolo a se stante Chiamato Cooking Academy Restaurant Royale Uscito solamente per dispositivi iOS A vederli sembrano giochi semplici E da checche Ma vi posso assicurare che sono davvero divertenti e carini Pensate un po' Hanno pure una storia vincente Certo avvincente per un appassionato di cucina Iniziamo e siamo degli apprendisti E ci viene mostrato come muoversi tra i fornelli Successivamente facciamo pratica nelle cuscine etniche di tutto il mondo Ed alla fine nel terzo capitolo che chiude la trilogia Siamo degli chef di successo E decidiamo di scrivere il nostro personale libro di ricette Per portare a termine questo compito però ci verranno a dare una mano Gli insegnanti che ci avevano svelato così tanti segreti di questo mestiere nel primo gioco Inoltre per chi non parla inglese come il nostro caro amico padano Ciro93 Che saluto Cooking Academy è un'esperienza propedeutica all'apprendimento della lingua anglosassone Infatti dopo pochi minuti di gioco vi verrà spontaneo imparare a memoria i nomi degli ingredienti Ed in men che non si dica riuscirete a fare battute a sfondo sessuale sul cetriolo anche in inglese Tra parentesi cetriolo in inglese si dice cucumber ed è quello fresco Mentre quello sott'aceto è pickle assistente ecco il suo cetriolo E poi prima di ogni ricetta vi sarà un briefing con le curiosità ed il background storico del piatto che andremo a cucinare Insomma si può imparare da Cooking Academy Tornando a noi ci può essere qualcosa dal repertorio di questi videogames che può farci comodo Per stasera Quello è un po' troppo lungo Quest'altro è difficile è buonissimo ma non penso di avere gli ingredienti adatti Ok Credo di aver trovato la ricetta che fa al caso nostro Signori e signore Bambini e bambine Ma soprattutto amici nutellosi Ok questa la tagliamo in fase di montaggio Stasera su Youtube Italia cucinerò una cena commestibile attraverso i passaggi estrapolati da Cooking Academy 1 e Cooking Academy 3 Via con il menù Come antipasto prepareremo delle classiche deliziose bruschette Dall'inglese bruschetta Passando ai primi ci concentreremo su degli ottimi spaghetti conditi con del sugo di carne Rosso Per secondo gusteremo degli appetitosi petti di pollo fritti con contorno di patata arrosto Ma non patate qualunque Patata arrosto con la buccia A chi non piacciono le patate? Beh non a tutti E proprio per questo motivo ho deciso che cucinerò anche un secondo contorno Pomodori verdi fritti Come quelli del film Basta chiacchiere C'è tanto da fare e poco tempo per preparare tutto Diamoci dentro Round 1 Appetizers Ready Set Cook Tagliate 3 pomodori e 1 cipolla Mescolate gli ingredienti aggiungendo olio, sale e pepe Prendete una baguette ed affettatela Io preparerò 10 bruschette Quindi a seconda di quante ne volete mangiare Variate le dosi ed il numero di fette di pane da tagliare Infornate il tutto e mantenete la temperatura di 425 Fahrenheit Circa a 218 gradi Celsius Per qualche minuto Et voilà Ecco le nostre bruschette Belle dure e croccanti Round 2 First course Ready Set Cook Preparate il battuto di cipolla e carne Utilizzando una cipolla e circa 250 grammi di macinata di manzo Fate rosolare in una padella e versate l'acqua per la pasta Cuocete gli spaghetti 500 grammi per 5 persone Se ne volete fare di più o di meno Variate le dosi in proporzione al numero di persone per le quali dovete cucinare Prima di scolare la pasta Finite di rosolare il sugo Aggiungete al soffritto 300 grammi di passata di pomodoro Condite con pepe, sale ed un pizzico di zucchero per rimuovere l'acidità della salsa Mescolate assieme agli spaghetti e servite al dente Mi raccomando, non mi piacciono gli spaghetti moshi Round 3 Second course Ready Set Cook Rompete due uova e sbattetele Grattugiate del pane secco oppure se siete pigri come me comprate del pan grattato dal supermarket più vicino Mescolate le uova aggiungendo sale, pepe e paprika giusto per rendere il tutto mucio caliente Prendete 6 fette di petto di pollo, se ne volete fare di più variate le dosi in relazione al numero di persone che siederanno alla vostra tavola Ed immergete la carne nelle uova Girate le fette di carne nel pan grattato e friggetele nell'olio bollente Quando l'impanatura dei petti di pollo sarà dorata spegnete il fuoco Round 4 First side dish Ready Set Cook Tagliate 15 patate a fette molto grandi Prima dividetele a metà e dopo tagliate in due parti le metà precedentemente divise Continuate a dividere le metà finché non sarete soddisfatti delle dimensioni della vostra patata fettata Non posso darvi un'indicazione più precisa da seguire poiché questo passaggio dipende esclusivamente dalle dimensioni originali dei tuberi che avete selezionato Io ho deciso di cucinare 3 patate a testa Voi variate pure le dosi a vostro piacimento a patto però di mantenere le giuste proporzioni tra gli ingredienti Condite con sale, pepe, origano, paprika ed olio Infornate a 425 gradi Fahrenheit, circa 218 gradi Celsius ed aspettate che il vostro primo contorno si abbrustolisca a dovere Tagliate a fette 3 pomodori, uno a testa Preparate un impasto con della farina di grano duro, della farina di mais ed ovviamente del pangrattato Lo stesso che poco fa abbiamo comperato in quel supermarket vicino casa Condite con sale e pepe Rompete altre due uova e sbattetele Immergete nel miscuglio giallastro i pomodori verdi Volendo potremmo riutilizzare le uova di prima Ma sarebbe meglio evitare, al fine di non mescolare sapori differenti e di mantenere l'identità culinaria del contorno in questione Dopodiché friggete, friggete e friggete ancora Fino a che l'impanatura non sarà appetitosamente sexy Mi raccomando, non gettate via le uova dopo la frittura In cucina non si spreca mai niente Potreste riutilizzarle per farvi una frittata per la colazione di domani mattina E l'olio, non versatelo nel lavandino Mettetelo in una bottiglietta e portatelo in un centro autorizzato per la raccolta differenziata Sembrerà una stupidaggine, ma basta una gocciolina per inquinare enormi quantità di acqua Oh, finalmente la cena è pronta Speriamo soltanto che piaccia e che non provochi nessuna intossicazione alimentare Sento rumore ragazzi, penso sia mia madre Grazie per l'aiuto che non mi avete dato Ciao, ciao, ciao Oh, ciao mamma No, no, non stavo parlando con nessuno Piuttosto, vieni a vedere la cena che io preparavo E' stupendo, no, no, mi piace E' stupendo, no, mi piace